Parliamo con l'Alessio del piano della sconfitta, seconda di fila del Castiglione, una gara bella fra due belle squadre, tante cose belle e qualche errore di più quelli del Castiglione, specialmente nel secondo tempo. Sì, devo dire tanti errori del Castiglione, abbiamo fatto il bello e il cattivo tempo, faccio i complimenti alla pregolettese perché è stata cinica e ha saputo sfruttare le opportunità che gli abbiamo concesso e che si sono creati. Noi dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta perché è una sconfitta in cui abbiamo creato e abbiamo buttato al vento la possibilità di recuperare più volte questa partita. Poco da dire, dobbiamo rifletterci ma pensare in positivo, pensare a lavorare per la prossima partita e fare in modo che questa partita andata male ci insegni qualcosa di importante. Il Pergo ha vinto, si può dire, con le armi del Castiglione? Il Pergo è stato bravo perché ha sfruttato tutto quello che gli è capitato e lo ha fatto bene. Noi abbiamo avuto più opportunità di rimettere in piedi la partita, non siamo stati bravi nel farlo, non siamo stati bravi nel difendere in alcune situazioni tipo quella del rigore dove siamo stati piuttosto ingenui. Ed è giusto così. Il calcio oggi ha premiato la squadra che è stata più attenta, più cinica e quindi è giusto così. Questa seconda sconfitta consecutiva è cambiato qualcosa nel Castiglione? Come ci spieghi questa flessione, almeno dal punto di vista dei risultati? Probabilmente interviene anche un aspetto psicologico che magari in qualche modo inconsciamente abbiamo qualche difficoltà nel riuscire ad esprimerci così come ci siamo espressi fino alla pausa. Però ripeto, il campionato è ancora lungo, siamo grazie al cielo ancora davanti e quello che dobbiamo fare è fare veramente tesoro di questa esperienza. Perché tutte le esperienze insegnano qualcosa, specialmente quando le cose non vanno bene perché non le fai bene. Se siamo intelligenti e io so e conosco i ragazzi, noi da questa sconfitta trarremo qualcosa di positivo.